Una programmazione abbastanza lunga che vede al centro come protagonisti i bambini, visto che è Natale, con un grande parco giochi installato per l'occasione, con punti educativi e di intrattenimento, pure per disegnare, per colorare, per intrattenere a 360 gradi i bambini che possono nel contempo scrivere una lettera a Babbo Natale per poi portarla alla casa di Babbo Natale e vedere avverato il loro sogno del Natale. Potrete gustare prodotti tipici, potrete passeggiare nello storico borgo di Bonea per iniziare a sentire l'atmosfera del Natale. Vi raccomando, fate i bravi anche quest'anno, se no Babbo Natale non vi porta i regali, perciò fate i bravi. Ciao!